buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di missioni ruolo ormai ci siamo è tutto pronto si aspetta solo il contingente l'autorizzazione del mef per il contingente dei posti disponibili per poi partire e con tutte le procedure per dare i posti in ruolo sia da le gradatori di merito per i concorsi ordinari per le gae e eventualmente anche per le fasi successive colle col veloci e con le gps prima fascia sostegno e con la mini col veloce che fa seguito alle assunzioni da gps prima fascia sostegno vediamo alle domande di oggi quanto tempo bisognerà attendere per poter scegliere la provincia del proprio ruolo per chi è già inserito nelle gradatori di merito regionali dei concorsi a cattedra la procedura della scelta per la provincia per chi è in posizione utile per un possibile ruolo è solo questione di giorni su istanze online dal sito del ministero di istruzione del merito e già in linea distanza dell'informatizzazione delle nomine ruolo riferita all'espressione preferenza provincia classe di concorso e tipo di posto chiaramente ancora i turni sono chiusi ma verranno aperti fra qualche giorno da regione a regione diciamo che si attende solo la pubblicazione del contingente dei posti destinati all'immissione in ruolo che sta per essere autorizzato successivamente con periodi differenti da regione a regione come dicevo prima verrà aperta l'area per la compilazione proprio all'interno del format distanza online già in linea e dal titolo informatizzazione delle nomine in ruolo dunque si presume tra la fine di questa settimana e l'inizio della settimana che andrà dal 17 al 22 luglio si apriranno i vari turni per le missioni ruolo procediamo con la seconda domanda la scelta delle preferenze per il ruolo da prima fascia gps sostegno quando sarà possibile effettuarla e attraverso quale modalità differentemente dalla prima fase delle nomine in ruolo dove già dal 10 luglio in linea su istanze online l'informatizzazione delle nomine in ruolo per la fase straordinaria per il ruolo da prima fascia gps sostegno bisognerà attendere l'apertura dell'istanza della scelta di delle 150 preferenze per gli incarichi supplenze tra le otto sezioni compilabili ce ne saranno due dedicate per l'immissione in ruolo con contratto a tempo determinato perché in posizione utile nelle gps di prima fascia sostegno in una di queste due sezioni si potranno inserire le preferenze per il ruolo dunque bisognerà aspettare ancora qualche giorno massimo una settimana dieci giorni andiamo avanti con la terza e ultima domanda se in una regione le gradatori di merito sono tutte esaurite il 50 per cento dei posti a loro riservati che fine faranno nella prima fase delle emissioni in ruolo il 50 per cento dei posti viene indirizzato verso le gae cioè le gradatori esaurimento e l'altro 50 per cento dei posti verso le gradatori di merito dei concorsi a catra ancora vigenti se tali gradatori di merito regionali fossero esaurite allora i relativi posti torneranno alle gae per cui facciamo un esempio se in una provincia ci fossero dieci posti da immettere il ruolo cinque andrebbero alle gae e cinque andrebbero ai concorsi a di merito ma se i concorsi di merito sono esauriti tutti e dieci posti andrebbero alle gae speriamo che con queste risposte abbiamo fatto cosa utile per i nostri telespettatori seguiteci ancora sul nostro sito www.tecna scuola.it e soprattutto nei canali facebook e youtube perché faremo delle dirette che riguarderanno sia le emissioni in ruolo e sia le 150 preferenze per gli incarichi e le supprese e tanto altro ancora arrivederci e appresso